Ciao ragazzi e benvenuti in questo video Ciro della Padova 1-1 Finisce in parità il derby veneto La prima panchina, l'esordio di Matteo Centurioni nella panchina bianco scudata Il Padova che sale a quota 24 in classifica A 5 punti, rimane a 5 punti dalla zona play out È un buon pareggio quello del tombolato Un pareggio che poteva essere anche una vittoria però ragazzi C'è grosso ramarico perché il Padova si era portato in vantaggio al 52esimo con Alessandro Capello Bravo a sfruttare l'assit di Serena A coordinarsi e a far partire un destro pazzesco che è andato veramente sotto l'incrocio Un gran gol per Capello, il suo quinto gol stagionale con il Padova in questa annata di Serie B La prima della sua carriera Gran gol di Capello, il Padova che ha anche delle occasioni per raddoppiare Prima con Cremenza e poi con Bonazzoli Non riesce però a sfruttare queste due occasioni e il Cedella Grazie anche all'episodio che cambia completamente il match L'espulsione ancora una volta di Cappelletti Dopo l'eroraccio di Venezia arriva un altro errore di Daniel Cappelletti Questa volta si fa espellere, il difensore ex anche Granata appunto Un doppio fallo, uno nel primo tempo e uno nel secondo ragazzi All'inizio del secondo tempo era stato graziato Dopo questo fallo qua era veramente impossibile Doppio giallo, espulsione al settantesimo e dopo 5 minuti Moncini pareggia per il Cedella Un cross tagliato E Moncini ha anticipato Longhi e poi beffato Minelli per l'1-1 Minelli che era riuscito a parare il rigore invece a Iori nel primo tempo Un altro episodio chiave Il rigore del Cedella dato al dodicesimo minuto è parato da Minelli E bravo a respingere il tiro poco velenoso per fortuna, per fortuna di Manuel Iori Però parliamo di questo episodio al settantesimo Un'espulsione che poteva essere tranquillamente evitata Tranquillamente evitata perché era un fallo a centrocampo Che poteva essere tranquillamente evitato dopo l'errore di Venezia Ancora una volta Daniel Cappelletti Complice di un'altra sciagura Peccato, peccato perché oggi i tre punti si potevano tranquillamente portare a casa Per quello che si era fatto il match Poi il Cedella ha giocato benissimo Non c'è nulla da dire perché negli ultimi 15 minuti ci ha messo sotto Noi ci siamo difesi come potevamo Con l'uomo in meno Occasioni su occasioni Però all'ottantanovesimo Una ripartenza poteva darci la gloria Poteva darci la gloria questa ripartenza Bonazzoli che non è riuscito a servire con il tempo giusto Baraglie libero nel secondo pallo di metterla dentro Deva solamente appoggiarle in rete Bonazzoli le serve troppo tardi Ormai i difensori del Cedella erano entrati Un'occasione d'oro Poi nei minuti finali C'è stata un'ultima diciamo Ultimi attacchi dei Granata Che però non hanno Per fortuna non hanno portato a nulla di grave Un pareggio che quindi muove la classifica Padova che sale a 24 punti Le prossime partite saranno decisive Saranno decisive la partita di martedì Nel turno infrasimanale contro L'Ascoli e Lugano E poi la trasferta di sabato contro il Carpi Queste saranno le due partite Che decreteranno il futuro di questa stagione Secondo il mio parere Però oggi veramente dobbiamo Dobbiamo fare mea culpa Perché Ok potevamo andare sotto dopo 10 minuti Per il rigore Minelli ha fatto il miracolo Poi però nel secondo tempo Quando vai in vantaggio Non puoi rimanere in 10 uomini Non puoi rimanere in 10 uomini in trasferta Per un fallo sciocco Per un fallo sciocco Peccato ragazzi Peccato però Oggi la mia squadra La mia squadra mi è piaciuta Oggi la mia squadra ha lottato E sono sicuramente contento Per quello che Il risultato Era il risultato Meno Diciamo Il risultato che Che ci può dare ancora Delle speranze per il futuro Mancano 7 partite 21 punti a disposizione Però lo sappiamo Le prossime due gare contro Ascoli Martedì E contro E contro il Carpi Sabato prossimo Saranno decisive Non Andiamo a più 2 sul Carpi Che ha perso contro il Crotone Il Venezia ha pareggiato Contro la Salernitana Il Foggia gioca oggi Contro il Brescia Alle ore 18 E il Livorno Ha perso 3-1 a Perugia Quindi i risultati comunque Sono arrivati abbastanza Sono sia positivi Che negativi L'Ascoli ha fatto 2-2 Col Benevento Rimaniamo là Siamo sempre a 5 punti del play out Dobbiamo portare a casa Delle vittorie Ascoli martedì E poi Carpi Sabato Saranno i prossimi impegni Ragazzi È un buon pareggio Dobbiamo crederci Anche se oggi La vittoria Poteva sicuramente Arrivare in casa Bianco scudata Ripetiamo il finale Dal Tombolato Ci dà la 1 Padova 1 A Capello Risponde Moncini Io vi ringrazio per l'attenzione Lasciate tantissimi like Iscrivetevi come sempre al canale E seguitemi anche su Facebook e Instagram Noi ci vediamo in un prossimo video Grazie mille Grazie mille Grazie mille